Buonasera a tutti, benvenuti al Piemonte Muvicolo Kalfins Festival, questa è la serata dedicata all'omaggio a Guido Chiesa, noi abbiamo appunto titolato Eclettica l'omaggio che gli abbiamo dedicato proprio perché ha toccato e continua a toccare diversi aspetti, diversi generi del cinema Non ero interessato di cinema fino all'ultimo anno di liceo, che è un anno importante, cioè il 78 perché viene dopo il 77, cioè viene dopo la fine definitiva di un'epoca in cui la politica aveva avuto centralità e in cui invece incomincia a, come dire, farsi avanti l'idea che attraverso la cultura si potesse anche fare politica, attraverso la cultura, le arti, lo spettacolo in generale. L'interesse per il cinema incomincia proprio in questa prospettiva nell'ultimo anno di liceo, cioè attraverso il cinema io avrei potuto fare alcune cose che mi piaceva fare ma che non ero capace a fare. Quando ho iniziato l'università lì c'è stato invece proprio l'impatto con le lezioni Gianni Vandolino, le quali mi hanno per la prima volta fatto provare l'entusiasmo per il cinema in sé. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!